Weee! Non fare il magazzino muffito! Da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice CREATOR! Clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci XIUDERONE! DAIE! Can you hear me screaming, oh so... Uee! Bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video! Io sono XIUDER e ragazzi, nella giornata di ieri, domenica, sono state inserite delle cose incredibili nei file di gioco di Fortnite. Un aggiornamento silenzioso, alcuni pacchetti sono stati decriptati direttamente dai leakers e oggi voglio farvi vedere un sacco di roba super interessante a partire dal Rift Beacon. Che diamine è il Rift Beacon ragazzi? Potrebbe essere la chiave di tutta la Season 10, ovvero sia un aggeggio, vi farò anche vedere un gameplay, che potrebbe essere il fautore di tutte le modifiche alla mappa collegato in realtà anche con lo Zero Point e altri file del Battle Royale. Vedremo anche finalmente le immagini della nuova Neo Pinnacoli in alta definizione, le migliori che ci sono in giro ed è veramente meravigliosa l'ambientazione, alcune cose ve le ho già fatte vedere su Instagram e finalmente arriva una conferma, dovrebbe essere nerfato il brutto con la patch che arriverà martedì. Non si sa se questo o se il prossimo. Prima però volevo ringraziare tutti quelli che utilizzano il mio codice creator, XIUDERONE. Grazie di qua ragazzi per supportare tantissimo il canale, mi raccomando iscrivetevi in tantissimi e soprattutto se la trovo attivate la campanella per non perdere nessuna notifica sui miei video e sulle mie live. Ma prima... E se ce l'ho raga, la domandina ve la devo fare. Dai, ieri non ve l'ho fatta che è uscito il video unboxing, oggi ve la devo assolutamente fare. domandina che secondo me è giunto il momento di chiedervi qual è la tua skin preferita di questo battle pass. Ce ne sono alcune che vanno a richiamare le skin precedenti, ce ne sono altre che invece sono nuove. La mia, ragazzi, il cavaliere, c'è niente da fare. La quarta fase del cavaliere mi piace tantissimo, che è praticamente lui, molto simile al cavaliere nero della season 2, però tutto d'oro. Tanta, tanta roba. Ditemi ragazzi qual è la vostra skin preferita del pass battaglia qua sotto, nei commenti. È già partito! Badole ciance! Andiamo a... C'è tempo da perdere qua. Andiamo subito ragazzi a parlare appunto del bruto. Cos'è? Com'è? Lo nerfano, non lo nerfano? Sì, effettivamente ragazzi gli animi sono veramente molto molto caldi per quanto riguarda la contrapposizione da chi ama il brutto e da chi odia il brutto. Sì ragazzi perché c'è veramente un sacco di gente che non vorrebbe venisse toccato. Molti dicono invece il brutto ha rovinato completamente le metriche, i gameplay di Fortnite ed effettivamente, a parer mio come già vi anticipavo, è un po' esagerato. Arriva finalmente un commento su Reddit da parte di un membro dello staff di Epic Games che dice noi ci scusiamo per i problemi che sta causando questo brutto perché anche loro giustamente non si aspettavano un così stravolgimento del gameplay. Verrà nerfato il brutto alla prossima patch e tra l'altro verrà eliminato dalle modalità competitive. Quindi probabilmente è possibile pensare che con la patch appunto in arrivo nell'arena non ci saranno più i brutti. Noi ci auguriamo che il nerf sia ovviamente giusto, io abbasserei la salute del brutto sicuramente, diminuirei i missili che può sparare perché è veramente esagerato. Staremo a vedere non appena sapremo di più e dei dati specifici, quale saranno le vere e reali modifiche. Ma andiamo avanti ragazzi con finalmente le immagini della nostra nuova Tilted Town. Oramai sono già un po' di giorni che ne stiamo parlando, abbiamo iniziato con le immagini caricate, tutte sgranate nei file di gioco. Siamo passati poi a vedere finalmente la mappa, chi mi ha seguito anche su Instagram ha visto delle foto in anticipo. Qui abbiamo ragazzi alle mie spalle la nostra Tilted Town nei file di gioco e la più in fondo come si potrà vedere dalla mappa. Ecco qua ragazzi però finalmente alcune immagini molto interessanti. Come sappiamo Tilted Town sarà ambientata nel Far West e ovviamente le case vanno a richiamare quest'era bellissima che secondo me ci sta tantissimo con Fortnite visto che in realtà non abbiamo nulla a tema Far West se non la skin calamity più o meno diciamo che ci si può avvicinare e anche il mortafiamma. Perché no qualcosa, come vedete ci sono le case quelle, i country club chiamiamoli così, le case quelle un po' più belle, il granaio, stiamo vedendo anche gli interni dove ci sono ceste, dove ci sono un sacco di stanze dove poter luttare. Qua ci sono addirittura le bare appoggiate. Queste immagini sono meravigliose perché si è riusciti con l'aggiornamento di qualche ora fa, aggiornamento in realtà silenzioso, niente da che vedere in game, a decriptare finalmente tutti gli edifici che sono davvero la banca, il saloon, lo store. Vi ricordo ragazzi che c'è una particolare, la torre di pinnacoli in costruzione è meravigliosa, è una chicca, secondo me io qua lo dico, la prima cosa che ho pensato quando ho visto questa immagine è ritorno al futuro, il 3. Io qua lo dico, chi ha visto la saga non lo so, mi sembra proprio un cliché dedicato a un capolavoro del cinema. Tra l'altro ragazzi sappiamo una cosa particolare della nuova pinnacoli, nel trailer viene mostrato il cartello di divieto dove non si può costruire ed è molto probabile che non si possa veramente costruire nella nuova pinnacoli, il che renderebbe Fortnite molto simile agli FPS che ovviamente hanno tematiche differenti, dove ovviamente non si può costruire. Voi cosa ne pensate? Ve l'ho chiesto anche su Instagram della possibilità di giocare in alcune location dove non si possa costruire ma contano semplicemente l'aim del giocatore e le skill nel nascondersi nei ripari naturali. Fatemelo sapere perché sono molto molto curioso. E andiamo avanti ragazzi parlando finalmente del Rift Beacon che diamine è il Rift Beacon, è questo, è questa roba qua ragazzi, è una macchina che è stata decriptata appunto qualche ora fa. Voglio farvi vedere uno spezzone di un gameplay perché merita di essere visto per capire un pochettino meglio la situazione. Fatemelo trovare un attimino che io qua mi perdo sempre diamine nel cattura schermo. Eccolo qua ragazzi, questo è il Rift Beacon a neo inclinata. Come vedete ha due sezioni. La prima che è questa ed è una specie di boh, secondo me è uno schermo anche se non si capisce bene e l'altra invece che abbiamo visto all'inizio che è un pentolone potrebbe sembrare dove molto probabilmente da lì apparirà un Rift gigante. Qual è? Vedete l'ha collegato in fondo. Qual è la funzionalità di questo Rift Beacon? Sembrerebbe essere proprio quella di teletrasportare un'intera location, non si sa dove in realtà. Abbiamo delle immagini interessanti che sono state recuperate nei file di gioco, questa ve l'avevo appena fatta vedere, questa è la piattaforma di cui vi parlavo e ci sono anche dei vari effetti sia grafici che sonori, ne ho alcuni sonori che vi voglio far sentire perché sono davvero interessanti, sempre ovviamente relativi a questa macchina che starà per arrivare. Li andiamo a sentire molto molto rapidamente. Senti qua. E' un suono, è un suono tipo di corrente che passa, no hai capito? Potrebbe essere la corrente che passa nei cavi e potrebbe generare appunto il funzionamento di questo Rift gigante. Ce ne sono ancora. Insomma ragazzi, una nuova cosa inserita e come ci viene detto appunto da Likers, oh che cavolo mi è venuto addosso, da Likers, mi ha colpito. Rift Beacon Treat, il Rift Beacon è stato aggiunto appunto nei file e ha delle connessioni con il Nexus, il Rift e lo Zero Point e ha ovviamente i suoni che vi ho appena fatto sentire. Quindi ragazzi, aspettiamoci di vederlo probabilmente in game e di capirne un pochettino di più. Io vi ringrazio tantissimo per avere guardato anche questo video, mi raccomando, un bel pollicione in su, iscrivetevi al canale, noi iniziamo alle 8 la live. Ciao!